Dica 33, la nostra rubrica dedicata al mondo della medicina e del benessere, parla di testimonianze di pazienti che hanno usufruito dei trattamenti ortocare, chirurgici e quant'altro. Mi chiamo Paolo Cavalaio, 60 anni e dal 2014 ho scoperto di essere affetto da coxartrosi bilaterale e quindi il mio destino era la protesi senz'altro. Ero molto spaventato dall'idea della protesi perché sapevo di tempi di recupero molto lunghi e quindi ho cercato di rimandarla per più a lungo possibile. Nel 2019 ho sentito parlare di questa tecnica mini-invasiva con tempi di recupero molto molto più rapidi. Mi sono deciso e a gennaio, esattamente il 9 di gennaio, mi sono sottoposto dal dottor Panti alla protesi d'anca. I tempi di recupero sono stati veramente eccezionali. Un adeddoto. Il giorno dell'operazione, il pomeriggio, è venuto a trovarmi il dottore. Io tra lo scherzoso e lo speranzoso ho chiesto al dottore ma fra 20 giorni posso salire in bici? E lui mi ha detto probabile ma ha vietato cadere. Bene, io il 28 di gennaio, dopo 19 giorni, sono salito in bici. Mi sono fatto un'ora di mezz'ora di mountain bike in salita, mezz'ora in pianura, però sono salito in bici. Quindi devo dire che... Ah, sentivo parlare dell'alzabagno, di tante cose che impedivano i movimenti. Allora, l'alzabagno in clinica c'era perché era predisposto per altri malati. In realtà potevo benissimo farne a meno. Il bidet, dopo 5 giorni, sono stato in grado di farmi il bidet da solo, che non è effettivamente poca cosa. Il giorno dopo l'operazione mi sono alzato. Il fisioterapista mi ha insegnato come camminare, di ambulare con le stampelle. Era il venerdì. Il sabato, un'altra tecnica di camminata con le stampelle. La domenica io praticamente sono stato tutto il giorno nei corridoi della clinica a camminare. Quindi è stata veramente eccezionale. Da lì sono stato per 10 giorni circa in clinica a fare dei piccoli esercizi di fisioterapia. Poi sono tornato a casa. A casa, sempre a questa struttura del dottor Panti, c'era il fisioterapista Moreno che mi ha aiutato tantissimo. Diciamo che la mobilità è stata ripresa molto meglio di prima di quando naturalmente ero senza protesi. ero malato e l'unica cosa è che adesso, perché è appena un mese e mezzo che sono stato operato, è la forza che naturalmente la gamba era diventata molto più piccola, la muscolatura non c'era e quindi devo rinforzare un pochino la muscolatura. Anche ecco vado a camminare, però dopo un'oretta sento che la gamba ha bisogno di riposare. Continuo ad andare in bici, però anche la bici naturalmente dopo un'oretta devo riposare. Non posso fare il pordoi, ecco intendiamoci, era questo. Però per il resto è veramente un'operazione inaspettatamente semplice, vogliamo dire risolutiva. La mobilità viene ripresa subito, sicuramente subito e nel mio caso anche molto molto meglio di come ero prima. Questo è Ortocare. Sono Stefania Tomassoni, ho 61 anni, sono stata operata nel giro di quattro mesi ambe due ginocchi, fine maggio il sinistro, 4 ottobre il secondo ginocchio. Sono rinata al 100%, se sapevo mi ero operata già qualche anno prima, ero arrivata al punto di camminare con le stampelle, già da un mese prima del primo intervento. Il recupero è stato pressoché immediato, tant'è vero che quando ho operato il secondo ginocchio il 4 ottobre, io già mi sono rifatta tutta la fiera dei morti a piedi senza stampelle. E per me è stato un traguardo molto molto alto. Adesso ho ancora un piccolo traguardo da raggiungere, che è quello di mettermi in ginocchioni, perché purtroppo le protesi fanno male. Con i cuscini ci riesco senza problemi. E mi domandano, se vengo da un altro pianeta, sono la donna bionica, purtroppo sono una persona normale per quelli che mi stanno vicino. Questo è Ortocare. Allora io sono Giuseppe De Mase, ho 50 anni, e da bambino molto probabilmente, sicuramente perché me l'ha detto Alessandro, ho avuto una displasia alle anche. Non mi è stata diagnosticata per motivi legati al periodo di nascita, perché negli anni 70 non si facevano tante indagini, il bimbo era sano, stava bene, quindi sono cresciuto senza saperlo. Ho fatto sport una vita intera, anche agonistico. Sono arrivato quattro anni fa ad avere problemi alle gambe, non riuscivo più a usarle come ero abituato. E da lì ho incominciato a indagare, a capire, a fare lastre, a fare risonanze magnetiche, ecografie, per cercare di capire cosa mi succedeva. Mi è stata diagnosticata questa displasia delle anche, quindi una coxartrosi bilaterale a tutte e due le anche. A quel punto dovevo intervenire, perché incominciavo a stare sempre peggio. Ho cercato di smettere di fare sport pensando che fosse quella la causa, invece una malattia degenerativa come la coxartrosi va avanti da sola, anche senza lo sport, quindi ho dovuto incominciare a prendere provvedimenti. A questo punto mi è stato presentato tramite amici il dottor Panti e sinceramente, avendolo conosciuto di persona, mi sono convinto del fatto che la sua tecnica di intervento e le protesi fosse una cosa ormai necessaria. Oltre alla tipologia di intervento minimfasiva che fa Alessandro, quello che mi ha convinto la sua personalità, la sua voglia, la sua energia nel fare le cose, la sua passione che ci mette nel mestiere. Quindi mi sono fidato della persona e ho programmato gli interventi. Ho fatto il primo sette mesi fa l'anca destra e un mese e mezzo fa ho fatto l'anca sinistra, tutte e due nella stessa clinica, tutte e due con la stessa tecnica minimfasiva. Ho ripreso assolutamente il controllo delle mie gambe e questa è una cosa molto importante che a livello psicologico aiuta tantissimo perché se io penso che oggi mi ritroverei sulla sedia a rotelle senza questi tipi di intervento e senza la tecnologia che abbiamo a disposizione, sinceramente è un pensiero forte per me. Invece sto bene, riesco a fare tutto quello che facevo prima, non ho dolori di nessun genere, addirittura la schiena incomincia piano piano a riprendere anche lei la sua efficienza e devo solo fare potenziamento muscolare, quindi sono assolutamente contento di quello che è stato il mio percorso. La cosa bella di questa tipologia di intervento è che in ospedale sono molto professionali, dura solo 15 giorni il decorso ospedaliero fra clinica ospedaliera vera e propria riabilitativa che è un'altra settimana. Quando si esce dall'ospedale si è autonomi in tutto, si riesce a fare tranquillamente tutto con le dovute accortezze, perché comunque il corpo ha subito due grandi interventi, quindi ha bisogno dei suoi tempi di recupero, ha bisogno dei suoi modi di recupero, i muscoli piano piano devono riprendere la loro capacità, però è assolutamente possibile fare tutto quello che si faceva prima. Quindi io sono estremamente contento del risultato, sono stato tra quei pazienti che non ha avuto nessun tipo di problema, quindi sono assolutamente contento e non so cos'altro aggiungere, che meglio di così non poteva andare. Questo è Ortocare. Ortocare a Perugia è una struttura che, possiamo dire subito, è accreditata al Sistema Sanitario Nazionale, quindi per venire da Ortocare, Alessandro, l'utente, il malato, il paziente deve pagare? Sì, in realtà paga la visita, no? Il paziente. Però l'operazione? Però poi gli interventi sono tutti convenzionati con l'ATL, con il sistema sanitario. Questo è importante, perché siete una struttura privata, ma poi è come se fosse un intervento che vai a fare al Santa Maria della Misericordia. Sì, certo, vengono fatti in strutture private e convenzionate, quindi il paziente con la famosa ricetta rossa, non paga nulla, certo. Quest'anno abbiamo chiuso l'anno con circa 650 interventi fatti, di cui circa 300 protesi fatte in due. È stato eseguiti pazienti, riabilitati, visti star bene, è una grande soddisfazione. Questo è Ortocare.